Crediti d'imposta erogati per corsi di formazione del personale mai effettuati, operazione della Guardia di Finanza della BAT per recuperare 2,5 milioni di euro destinati a rappresentanti legali di aziende che hanno avuto accesso all'agevolazione Formazione 4.0. Il lavoro delle Fiamme Gialle si è svolto in sinergia con la Procura della Repubblica di Trani e l'Agenzia delle Entrate, già concretamente recuperato un milione di euro. Un'undagine che si è sviluppata su alcuni corsi di formazione mai tenuti, i quali hanno dato la possibilità a queste aziende di ottenere dei crediti che in realtà sono fittizi perché mai il presupposto di questi crediti si è verificato. E allora una volta questi crediti hanno compensato orizzontalmente, cioè vuol dire che con l'esistenza di un credito falso si compensano tasse, contributi e altri tipi di strumenti previdenziali e quindi minare se non distruggere la competitività delle imprese che invece quotidianamente, mensilmente, annualmente pagano fior di centinaia di euro di erario. I corsi di formazione si sarebbero dovuti svolgere nelle ore di lavoro grazie al ristoro economico concesso alle stesse aziende per compensare l'attività di settore non svolta. La formazione del personale, in particolare sulla sicurezza sul lavoro, non è stata mai effettuata. Decisivo il tavolo di coordinamento voluto dalla Procura di Trani, denominato Polo Tutela Penale delle Entrate. Si occupa di mettere a sistema i dati che l'attività di analisi dell'Agenzia delle Entrate, qui accanto a me, elabora e che chiaramente la Guardia di Finanza investe in pulizia giudiziaria quando si superano le soglie e riesce a contrastare con gli strumenti tipici del Codice di Procura Penale. Grazie. Grazie a tutti.